Scusate, Mario Luci in sala, scusate, c'è un problema. Sapete che abbiamo già avuto un po' di problemini, Gianni è caduto dal capo e adesso un altro dei nostri attori è a Milano, non si è ricordato che lo spettacolo era oggi pomeriggio e quindi io non so veramente... Vado io, vado io. Ma anche da, state già mai fatte i prove in tempo e in dora? Cosa dicono? Ma cosa c'è? Vengo io. Ma no, ma no, non ho nada di punto di vedere in giro, vado così io. Non si è visto tutte le prove, dai. Ma è un esatto, non è arrivato questa... Anche io te le seguo i prove e te le le citò, eh. Ma proviamo. Ma forse, forse da grande vuole fare l'attore. Vabbè, allora tutto è meglio. Allora, vai Gino, vai a prepararti. Speriamo in bene e allora forse si va ad incominciare. A loro. Ciao. E' giunta mezzanotte, si spendono i nuovi, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte silenziose. Un'ultima carrozza, Gino Lando, se ne va... La noi movimentà. Era una notte buia e tempestosa. Era una notte buia e tempestosa. Così, in questa notte buia e tempestosa, presso la dimora del Gran Duca, Amedeo Umberto Seymour III, del casato dei Savoia Caffasso di Viste, ovviamente da parte di madre, Donna Adelaide, tutto si svolgeva come sempre, Amedeo Umberto Seymour III, Duccio per gli amici e i familiari e l'intento, come tutte le sere, al suo gioco preferito, il solitario. Tra poco avrebbe sorseggiato il suo vimbrulè e si sarebbe coricato in attesa di un dolce sonno. La di lui consorte, Elisabella, Camola, Isabella, Ezza, Sissi, gioviale e frizzante, donna in carriera, si stava preparando per una serata di gara. Oh, Duccio, mi son pronta, eh? Ti, quel decide te. Tu sas che stasera l'importantissima per la mia carriera e per quella da D'Alberto Maria, eh? Ma sappiero, ma sappiero, ma è una del buia e tempestosa. No, no, tu sas benissimo che stasera l'ho affrontata da 6 mesi, 6 mesi per fer la fusione con i cinesi, per chiesire. Tu sas che così sarà il colpo grosso, il colpo grosso per la mia carriera e per quella da D'Alberto Maria. Tu sas che così ha l'incoronamento del nostro impegno. Ezzes mai contenta, ezzes mai contenta. Ma resta qua con me, no, no. Ma resta qua con me con un anno di parete, mi va di girca, è su un bacca, la derezza sinne. Ma, ma. Solo e di indifferenza. Ma no, che so. Resta qua con me, fate passere, giuggete, resti qua con me. Ah, è il professor che non mi aspetta con la Roll Royce fuori, l'autista, l'è già pronta, e poi, per due cusse d'acqua, ma figurate, ciao! Senta, ferma la minetta, ferma la minetta, eh? Visto che quando c'è certo, poi non ti smenche sempre mai che torno. No! Perché sì, perché sì. C'è che non ti smenche del cellulare, 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 Non ti smenche del cellulare, ma non ti smenche del cellulare, Quindi, c'è che non ti smenche del cellulare, eh? Vabbè, vabbè, sta tranquillamente, no? Ciao, né? Ciao! Lo so che io... Oh, scusa, ciao! Ciao! Ehi! 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 Grazie.